Naomi di Crescenza e Roberic erano amiche fino a poco tempo fa A quanto pare le due hanno avuto un litigio interno e hanno smesso di uscire insieme Ma nella giornata di oggi la Naomi di Crescenza ha mandato una frecciatina Che poi frecciatina, un arpione in realtà Nei confronti della Roberic per un suo TikTok postato Il TikTok della Roberta parlava appunto di uno sketch riguardante il fatto che una persona in cui si sentisse Fosse scappata in Messico per il fatto che a lei non tornasse il ciclo e avesse appunto una gravidanza E la Naomi sul suo profilo personale ha postato un TikTok che è palesemente riferito a Roberic E lo si può intuire anche dai commenti e dai palesi riferimenti visto che è uscito subito dopo il TikTok della Roberic Dove fondamentalmente la va a sputtanare dicendo che la Roberic, secondo lei, stiamo soltanto citando Si sarebbe frequentata con un cantante fidanzato e nel mentre con un altro cantante Fingendo di avere una gravidanza con entrambi Ora non è ben chiaro che si stia parlando di Shiva visto che a quanto ne sappiamo è la sua ultima frequentazione pubblica E nel mentre che stava con Shiva ha finito una gravidanza con lui e è andata con un'altra persona Chiaramente tutte queste sono soltanto ipotesi Quindi stiamo a vedere se usciranno altri video al riguardo Fatemi nel mentre sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Vi lascio filmati, noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio Ciao